Ma buongiorno! Buongiorno al cazzo! Oh! 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 E baffanculo! Oh! Come ci si sente a 92 anni alle 10 e mezza della mattina? Come in coglioni! Oh! Oh! Oggi è la giornata del... Oh! Eh? Eh sì! Ma com'è la situazione fuori? Mamma mia! Che è? Che c'è? È pieno! No vabbè! Sta pieno! È pieno! Sta pieno! Sta pieno! Guardate qui! Ma com'è? Come so? Eh! Buone! Buone! Tutte pelose! Ma davvero? Mamma mia! Ti dico! È una foresta! Una foresta? Dai! Descrivi! Descrivi! Eh! Io non posso descrivi! Ti guardo e basta! Ma è liscio o riccio? Tutto riccio riccio eh! Bello? Eh! Eh sì! Ma descrivi un po' Aiutami! Fammi fantastica anche da me! Com'è sta figa? Eh! È bella! È bella! Nera! Nera! 52 anni è ancora appassionato di figa! Eccolo! Eh o no? Sì! Ma tu non hai messo l'affare! Sei appassionato o no? Eh o sì! Che cosa fa? Eh! Sei appassionato o no? C'è il maschio quello! Non deve pensare! Ma... Vai o no? Metti la maschera! Metti la maschera! Allora che me la tira da su a fa? Mettela! Metti la maschera! Allora, metti le braccia così stese! Eh! Eh! Più stese! Ma come non lo metti? Più stese! Più stese! Più stese! Meno! Meno! Meno e più! Dai! Fa per bene! Ma non ti pagherò! Ma non! Ma non ti pagherò! Ma non ti pagherò! No! No! Ti ho già fatto il palletino! E così! E così! Come... Eh come la fa? Che merga! Metti la maschera! Cosa fai così che ci vuole! Ma che pasta! Porca madre! ma non ti coglia ma capito ma f***o no no ma dov'è ma capina va tocca a finir eh si si da finisco va bene con questo outfit? qui? questo outfit va bene? l'outfit va bene? si si va bene l'outfit o no? si 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 va tutto bene dove ci possa andare questo outfit o no? ti piace o no? l'outfit pandado pandado oh l'outfit pandaffanculo eccolo incredibile ma monna sta pieno bravo ma anche oggi l'ho scampato raga era strapieno ma voi non verrete conto ricordo che su www.carlettolife.com troverete tutto il mio merchandising guardate questa è per mia sorella il suo numero 96 ognuno di voi avrà un numero diverso per questa felpa quindi se fate swipe andate a vedere e c'è anche la S di stronzo eccola qua un'altra felpa più tutte le t-shirt del vecchio merchandising più il nuovo tipo sta pieno una t-shirt sta pieno è l'essenza proprio sta pieno perché può essere tutto sta pieno sta pieno di figa sta pieno di quello che vi pare quindi www.carlettolife.com fate swipe up e andate a vedere quello che fa per voi inoltre vi volevo dire che alle 18 metteremo uno scherzo telefonico su youtube quindi se ancora non avete fatto l'iscrizione su youtube fate swipe 18 ore 18 scherzo telefonico su youtube ho visto che avete molto apprezzato i video della ziggianna ogni tanto li riposto perché è giusto ricordare anche chi non c'è più io la ricordo tutti i giorni la porto sempre nel mio cuore però magari per chi è nuovo e mi segue da poco non sa nemmeno chi era era la sorella di nonna la mia zia ero legatissimo a lei è arrivata fino a 97 anni e ne vado fiero orgoglioso perché l'ha vissuti al massimo e sempre col sorriso posso venire a fare nonna con te? perché? dai Chiara Carli dai fammi fare nonna con te se volete dei consigli della moda seguite Chiara Carli se volete fare shopping e comprare delle minchiate pazzesche seguite Chiara Carli Chiara Carli volevo parlare di quello che compravi tu oggi oggi mi è arrivato un babbo natale altro 2 metri e 40 vero Chiara Carli com'era? è bellissimo domani lo gonfio fuori casa mi è arrivato il ritardo ma io lo gonfierò comunque se avete fatto delle sgommate di cacca sulle mutande bianche seguite Chiara Carli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti